8 arresti in flagranza di reato e 12 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP di Teramo tra albanesi e italiani e un sequestro di droga tra cocaina ed eroina per un valore di 10 milioni di euro. Sono i numeri della maxi operazione di polizia scattata all'alba di questa mattina in provincia di Teramo, 200 kg di droga sequestrata destinata prevalentemente al mercato teramano. Lo stupefacente in alcuni casi veniva anche venduto porta a porta. Un'indagine complessa non tanto lunga per la verità gli investigatori della squadronomia sono stati bravi a chiuderla anche in tempi vista la portata dell'operazione anche in tempi piuttosto veloci grazie alla procura della repubblica che ci è stata vicinissimo e ci ha consentito di chiudere il tutto l'operazione iniziata a novembre del 2022 per cui sì credo che ci sia ad essere soddisfatti. L'attività di indagine coordinata dalla locale procura della repubblica è nata dall'operazione della sezione antidroga della squadra mobile della questura di Teramo a Floriano di Campli il 23 novembre scorso nel corso della quale sono stati sequestrati 16 kg di eroina a carico di un albanese tuttora latitante. I 110 kg di cocaina sequestrati nel corso dell'indagine che poi si vanno a sommare a l'altra ingente quantità sequestrata nel corso degli otto arresti in fragranza di reato effettuati nel corso dell'indagine era sotterrata in è stata rinvenuta nel corso di tre distinte operazioni di ricerca effettuate in sei diversi siti aggressi ubicati nei comuni di Martinsicuro, Mosciano Sant'Angelo e Tortoreto interrata a circa un metro e mezzo di profondità e contenuta in buste in fusti di acciaio inox utilizzati per il trasporto dell'olio d'oliva e si trovava all'interno di buste riportanti la scritta di un discount olandese no food dal nome Action.